Ben trovati ad un nuovo appuntamento con il Tg7 Gallarate e tutte le notizie della settimana partiamo subito da un'enorme nuvola di fumo nero che è apparsa all'orizzonte in varie zone del Varesotto per un incendio scoppiato in una piccola azienda chimica del Novarese. L'allarme comunque è rientrato subito perlomeno alla fine della mattinata perché l'Arpa Varese dopo le dovute rilevazioni ha confermato che non vi sono sostanze nocive rilasciate in aria. Vediamo subito un piccolo servizio su questo argomento. Un'enorme nuvola di fumo nero è apparsa all'orizzonte questa mattina visibile in alcune zone del Varesotto comprese tra le altre le città di Gallarate e Samarate, destando non poca preoccupazione tra i residenti. Infibrillazione anche sui social con foto e video. La nube che si è innalzata ad alta quota verso est è stata provocata dall'incendio scoppiato in una piccola azienda chimica del Novarese a 20 chilometri dal confine regionale, intorno alle 8.00. Allarme è rientrato dopo le rilevazioni di Arpa Piemonte per tutta la mattinata per monitorare la qualità dell'aria e la comunicazione di Arpa Varese divulgata anche dalla protezione civile di Gallarate che conferma che non vi sono sostanze nocive rilasciate in aria. Continuiamo con la cronaca. Tragedia Gallarate è un uomo di 46 anni è morto dopo essersi buttato dal ponte della Mornera. Il corpo senza vita è stato trovato intorno alle 12 del 28 marzo del caso se ne sta occupando il commissariato della Polizia di Stato cittadino e non si conoscono i motivi che hanno condotto l'uomo a compiere l'estremo gesto. Incubo si spera finito invece per una giovane donna vittima di maltrattamenti e minacce dal suo ex, un uomo di origine straniera denunciato dalla Polizia Locale di Gallarate per aver commesso atti violenti e persecutori nei suoi confronti. La ragazza ha cambiato più volte residenza per sfuggire al pericoloso individuo e ha raccontato agli agenti anche di aver persino abortito. L'uomo è stato arrestato dopo aver speronato l'auto della vittima al culmine di un altro episodio di pedinamento. Ed ora cambiamo argomento, grande soddisfazione per l'ex consigliere Germano Dalligna, capogruppo di Fratelli d'Italia Gallarate che ufficializza con la firma Palazzo Borghi il suo nuovo incarico come assessore alla sicurezza di Gallarate. Dopo le dimissioni ricordiamo di Francesca Caruso, ora assessore regionale alla cultura sempre per Fratelli d'Italia. A lui ad alligna le deleghe di Polizia Locale, Protezione Civile, Partecipazione Democratica, Regolamentazione Trasporti. Ed è proprio il tema della sicurezza al centro di dibattito politico e non solo, dopo partito dalla spaccata notturna ai danni di un negozio di arredamenti di Piazza San Lorenzo a Gallarate. Danni ingenti per migliaia di euro, il furto di una poltrona di design del valore di oltre 10.000 euro. Il ladro, un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato subito fermato, però poco dopo è restato non molto lontano dal negozio, da una patuglia della Polizia di Stato. E partiamo proprio dal sistema di videosorveglianza criticato dallo stesso sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, eredità del precedente assessore alla sicurezza. Partono qui i nostri servizi e quindi buona visione. Funziona solo il 55% delle telecamere in città. Era stata la dichiarazione del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, che dopo la spaccata notturna e il furto al rigoglio arredamenti di venerdì 24 marzo aveva voluto verificare in prima persona la condizione del sistema di videosorveglianza, attribuendo all'ex assessore alla sicurezza Francesca Caruso, oggi assessore regionale alla cultura per Fratelli d'Italia. L'attuale situazione, ma l'opposizione all'uscita del primo cittadino è sembrata incredibile, come ha sottolineato il capogruppo del PD, Giovanni Pignataro. Questa mattina siamo stati al comando di Polizia Locale per verificare il funzionamento del sistema delle telecamere e videosorveglianza. Abbiamo verificato, uno, che il sistema è in realtà in netto miglioramento rispetto a come l'abbiamo visto nel 2018 e rispetto a come era presumibilmente nel 2021. E c'è un progetto messo in esse dall'attuale comandante che prevede che le telecamere funzionanti saranno sempre di più fino ad arrivare al 100%. Mi pare un progetto credibile, mi sembra invece incredibile, questo è il secondo punto, che il sindaco usi strumentalmente dei numeri dei quali potrebbe anche bantarsi dicendo che la situazione è migliorata per dire che il suo precedente assessore non ha fatto bene il suo lavoro. Questa è irresponsabilità amministrativa, non si può seminare la paura nei cittadini. Terzo punto, una nota polemica però va fatta, nel 2021 si votava, si parlava di una gallarata messa in sicurezza dalla videosorveglianza, non era vero. Nel weekend la polizia locale è intervenuta più volte in città per mettere ordine e mettere la città in sicurezza anche con l'aiuto di una nuova forza. Abbiamo adesso l'unità cinofila Azzorro che ha cominciato l'attività operativa, abbiamo fatto i primi servizi, le prime uscite e settimana scorsa un primo test in prossimità di un istituto scolastico ha portato all'individuazione di uno spinello abbandonato probabilmente dai ragazzi alla vista degli agenti. Nel fine settimana una serie di controlli sul territorio cittadino, in periferia c'era arrivata una segnalazione di un soggetto sospetto in prossimità di un'auto, l'intervento della pattuglia ha consentito di individuarlo, il soggetto oltre a essere irregolare è risultato anche detentore di uno zaino che ha abbandonato la vista degli agenti con all'interno della refurtiva, è stato denunciato per recettazione. La stessa persona poi nella serata di sabato è stato trovato in prossimità della stazione in stato di ubriachezza che dava fastidio ai passeggeri e quindi anche lì è scattato un ordine di allontanamento. Sempre in zona stazione, nell'ambito dei controlli, un cittadino di origine nigeriana che era stato fatto scendere da un pullman del trasporto urbano perché anche lì dava fastidio ai passeggeri, si è diretto verso la stazione, intercettato dalla pattuglia, ha ricevuto anche lui un ordine di allontanamento. Sorpreso in uno stabile abbandonato in periferia invece un senegalese che da giorni occupava illegalmente l'immobile e poi 5 mila euro di multa e una denuncia per l'uomo di origine indiane irregolare, trovato alla guida di un furgone in zona charè, ubriaco e senza patente. Il tema della siccità è anche un problema non soltanto di riuscire a raccogliere quello che cade dal cielo, è anche un problema di dispersione dell'acqua. Sì, questo è un dato importante e anche allarmante. In provincia di Varese la dispersione è al 40% ed è per questo che è stato creato il gestore unico idrico provinciale, quindi Alfa, proprio per avere quella capacità di investimenti di andare a ridurre le perdite. Noi abbiamo tra l'altro dotato un sistema innovativo che è il rilievo delle perdite tramite satellite, le faccio alcuni numeri, l'anno scorso siamo intervenuti su oltre mille perdite in tutta la provincia di Varese, abbiamo un piano che prevede altri 5.000 interventi nei prossimi sei mesi. Insomma c'è tanto lavoro da fare ma finalmente in provincia di Varese questo problema lo si sta affrontando con grande determinazione. Centro di eccellenza per i trattamenti con tossina botulinica, grazie all'equipe del dottore Isidoro Laspina, la neurologia di Gallarate è l'unica in provincia di Varese a trattare tutte le patologie e ad aver aumentato in maniera esponenziale nonostante difficoltà e pandemiche la propria attività. Tra le altre cure le terapie con gli anticorpi monoclonali per cui è considerato il terzo centro in Lombardia oltre ad essere anche un punto di riferimento a livello regionale per la cura dell'epilessia e delle malattie rare. In futuro il centro di Gallarate implementerà il trattamento della disfunzione della vescica neurologica. E' da qui che parte l'avventura dell'associazione Hauser di Gallarate, da una nuova definizione di sé, da un giubbino che diventa canice, divisa, medaglia, emblema, anima, persino delicata armatura con cui prendersi cura degli altri. Così Renato Losio, presidente dell'Hauser di Gallarate nella settimana della lettura introduce la serata di presentazione presso l'istituto Falcone del libro che parla dell'associazione da 30 anni vicina alla gente, fondamentale in città al servizio degli anziani e poi dei ragazzi disabili. Noi abbiamo creato questo progetto che si intitola Quelli del giubbino giallo perché è così che i bambini, che noi trasportiamo i bambini con delle disabilità, chiamano i volontari Hauser. E in questo libro noi raccontiamo tre cose. La prima è come ripetere tutto quello che abbiamo fatto noi perché da un progetto sperimentale ormai trasportiamo quasi 50 ragazzi. La seconda l'identificazione, nel senso che abbiamo raccontato con molta lucidità anche il vissuto sia delle famiglie sia dei volontari. E la terza è quella proprio della verità assoluta perché abbiamo raccontato le storie, abbiamo raccontato chi c'è dietro e dentro ai giubbini gialli. Il libro dell'associazione Hauser di Gallarate, corredato dalle illustrazioni create dagli studenti del Falcone, verrà pubblicato e sarà disponibile nei prossimi giorni. Torna al mercatino della solidarietà a Gallarate. Per Selene, la bimba di Busso Arsizio affetta dalla sindrome di Rett, una rara patologia neurologica dello sviluppo, non riconosciuta dal sistema sanitario ancora e per questo i costi della terapia riabilitativa rimangono a carico della famiglia. Abbiamo deciso anche quest'anno di tenere sempre il progetto per Selene perché visti i miglioramenti ci spiaceva lasciarla e vogliamo continuare fino a Natale a lavorare per lei. Con la vendita di abiti donati da amici conoscenti che arrivano persino dal Kenya. E qui abbiamo abiti, golf, chissà cosa troviamo, tiro fuori una cosa sola per vedere. Sono tutte cose nuove, incartellinate. Funziona ad offerta libera. Diamo un minimo di partenza. Abbiamo dei vestiti da 20-25 euro, il più caro costa 35, i golfini da 10-15 euro e abbiamo tante cose e sono qua per voi. Il motto di quest'anno è regalati e un vestito accende una speranza. Aspettando il Giro d'Italia a Cassano Magnago saranno tanti gli eventi. Quali prossimi? Allora, il 15 di aprile avremo l'evento della ciclo storica in Villoliva dove ci sarà l'esposizione anche delle moto del Green Piston e dove ci sarà un giro per Cassano per vedere quali sono i nostri siti storici. Poi avremo una partita del cuore che si disputerà tra ex calciatori ed ex ciclisti all'Union Villa. Poi avremo una bellissima notte rosa, una Color Run che si effettuerà il 7 di maggio. Poi avremo ancora un sacco di spettacoli teatrali che ricorderanno l'arrivo della tappa del Giro. Oltre a questi avremo la presenza di Ivan Basso che girerà alle nostre scuole, dalle materne alle scuole secondarie. Abbiamo sempre e ancora un sacco di proposte per fare nuovi eventi che cerchiamo comunque di calendarizzare nonostante siamo proprio sottodata. Tutti questi eventi saranno inseriti in una brochure a presto in distribuzione sia nelle case sia nei negozi. Questo ci fa molto piacere perché c'è veramente tanto fermento all'interno di Cassano per l'arrivo della tappa. Dalla Neo Associazione Genka, genitori di Cassano Magnago, nei giorni scorsi l'appello alla cittadinanza per la raccolta di beni di prima necessità in favore delle popolazioni terremotate in Siria e Turchia, prima iniziativa lanciata dal gruppo di mamma e papà dell'Istituto Comprensivo Dante, con la realtà associativa di Onsur che porterà a destinazione il carico e con un ritorno dalla comunità inaspettato. Dobbiamo dire che la cittadinanza ha risposto molto bene e si è subito attivata dai genitori al personale scolastico, i collaboratori, la dirigente e soprattutto i bambini che stanno portando nelle scuole davvero tanto tanto materiale e tutti i loro colori con i loro disegni e la loro allegria. Tutto ciò che abbiamo richiesto rispondendo alle necessità del luogo sia coperte, medicinale, materiale scolastico per i bambini, per i bambini che vivono ricordiamo sempre in Tendopoli. Nei primi giorni di aprile è prevista la partenza del carico. L'associazione Onsur è un'associazione nata già dieci anni fa, due anni dopo lo scoppio della guerra in Siria. Io ai dieci anni che ne faccio parte, ho preso parte a tre missioni, questa sarà la quarta. Per noi è molto importante sensibilizzare i ragazzi e i bambini a questo tipo di problematiche. C'è l'Italia degli anni 30 e c'è la storia di Anna, la prima portalettere donna in un paesino del sud, nel libro di Francesca Giannone. E la storia di cui vi parlo oggi è la storia di Anna, una delle prime portalettere del sud d'Italia. È arrivata da poco, nel giugno di quell'anno, con il marito. Lui è un uomo del sud, quindi è contento di essere tornato a casa. Lei invece è una bellissima donna del nord, con una mentalità completamente diversa rispetto alle donne che si appresta ad incontrare nel paese dove si è trasferita. L'anno dopo compie un atto molto, molto coraggioso. Si iscrive a un concorso delle poste e lo passa. Diventa perciò la prima portalettere donna del paese. E quindi inizia da qua poi la sua avventura, con chi l'appoggia, chi la critica, chi è pronto a puntarle il dito ma un po' la invidia. Per la settimana della lettura gallarate, appena cominciata, si parla di coraggio e di lotta ai pregiudizi nell'incontro con l'autrice del romanzo Il diritto di sognare, edito da Mondadori. Qual è il messaggio che oggi porta agli studenti della primaria dei amici sagallarate? Sicuramente è un messaggio di inclusione, già il testo in sé è un libro inclusivo perché, come vedete, è inserito nel progetto di alta leggibilità di Mondadori, quindi una pagina non giustificata, con dei caratteri decisamente più grandi e le illustrazioni che accompagnano proprio alla lettura di Ilaria Zanellato. Racconto la storia di Claudette Colvin durante la segregazione razziale in America, che non ha ceduto il posto sull'autobus a una donna bianca nove mesi prima di Rosa Parks. E, come vedete dalla copertina, la storia di Beatrice, che è una ragazzina di Milano, che scoprirà la storia di Claudette e lei, che vuole essere sempre la prima, un po' in fissa con le classifiche, inevitabilmente farà pace con medaglie, podio e tutto quanto riguarda appunto la competizione. Questo è un po' il messaggio che vorrei dare agli studenti, che insomma a volte non serve una medaglia per fare delle cose importanti. Orgoglio e gioia del presidente dell'Associazione Castanese Più di 21, Antonella Cibin, per i suoi ragazzi, gli atleti Mattia Allesina e Daniele Montanari, che vediamo qui in un abbraccio, che hanno conquistato il primo, una meravigliosa e meritatissima medaglia d'oro e il secondo, un dignitosissimo settimo posto ai campionati europei di paracarate. Felice per il risultato, ma soprattutto per il livello di autonomia raggiunto, poi conclude sempre Cibin, la presidente appunto dell'Associazione Castanese Più di 21. Ed è tutto dunque per questa edizione del Tg7 Gallarate, grazie per l'attenzione, vi ricordo l'appuntamento per mercoledì prossimo, sempre alle ore 20. Grazie a tutti e buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS